Ciao a tutti e oggi sono qua per mostrarvi i bellissimi bijoux e prodotti che mi ha gentilmente inviato Lab Creation. Lab Creation realizza bijoux in vera madre perla. I suoi sono tutti orecchini fatti a mano con vari inserti, pezzi più unici che rari che adesso vi mostro. Tutti i prodotti che mi ha inviato Lab Creation si trovano all'interno di questa bellissima scatola di colore rosa, con questo nastro tutto decorato da bellissimi cuori. E ora andiamo a scoprire insieme il fantastico contenuto. Eccolo qua! Come già potete notare all'interno ci sono veramente tantissimi prodotti che adesso vi mostro nel dettaglio uno per uno. Tutti i loro prodotti sono contenuti all'interno di questi bellissimi sacchettini. E come vi mostrerò dopo potete vedere che ogni orecchino è abbinato al colore del proprio sacchettino. E adesso andiamo a scoprire insieme i bellissimi orecchini. Il primo che vi mostro è questo. Guardate che meraviglia! Con questo fantastico dettaglio di fiore, uno di colore bianco e l'altro di colore nero, con questo sfondo di colore oro. Poi abbiamo questi bellissimi orecchini di colore oro con lo sfondo rosso. All'interno di questo sacchettino celeste troviamo queste meraviglie veramente elegantissimi. E dopo di che... meravigliosi orecchini blu e oro! E un altro paio di orecchini? Devo dire veramente che ogni orecchino è più bello dell'altro! E perfetti per ogni gusto! Ad esempio questi sono neri ed arancioni con questo bellissimo fiorellino. E all'interno del pacco era presente anche questo bellissimo segnalibro o segnalagende. Davvero molto particolare e coloratissimo! E anche questa bellissima penna! E infine, ma non per importanza, questo bellissimo bottoncino con il quale potremo fare i nostri selfie e verremo ripostati nella loro pagina! Ringrazio ancora tantissimo Lab Creation per questa bellissima opportunità! Vi consiglio davvero di andare a visitare la loro pagina in quanto hanno tantissimi articoli meravigliosi! Spero che il mio video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo! Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!